Torna questo appuntamento che raccoglie tantissimi consensi e che aggrega tante parti della nostra città. Sì, hai usato un termine giusto, è aggregante, perché nel corso di questi 13 anni ha cominciato ad aggregare anche le nostre aziende. Comunque è un grande evento, le famiglie aretine l'aspettano, aretine non solo perché ci dicono che chiedono anche tour operetti di altre zone se la manifestazione è confermata. L'aspettano perché la multietnicità di offerta di prodotti, correlata anche da una grande esposizione massiccia delle nostre produzioni, delle nostre eccellenze, è sicuramente accattivante. Il folklore del mercato è sempre affascinante per tutti i tipi di clientela, sia quello più facile, la massa, sia quello più difficile che cerca magari il famoso caviale o alcuni aspetti della nostra Europa che non può trovare in momenti diversi. Quindi mi piace definirlo anche un grande evento popolare e familiare. Qual è il prodotto che la presidente di ConfCommercio compra per eccellenza senza far nessun torto, ma insomma un piatto preferito o qualcosa? Ci dica questa chicca. I tulipani, non ho un'ombra di dubbio, io amo i fiori, mi piace, mi rilassa e questi tulipani qui sono veramente belli.